Allora io sono Nicola Figatramanca, sono il segretario generale di Non c'è pace senza giustizia, che è meglio nota come Nupi Studio Justice, è un'organizzazione che si occupa di diritti umani e di giustizia internazionale e che ha quasi trent'anni di esistenza. Io non sono stato con non c'è pace per trent'anni, ma è stata la parte più importante della mia vita professionale. Il lavoro dell'organizzazione si incentra principalmente sull'accountability, cioè sull'attribuzione di responsabilità per le violazioni dei diritti umani, partendo dal principio che non c'è soltanto una responsabilità dello Stato quando c'è una violazione, ma che ci sono decisioni prese anche a livello individuale di cui bisogna rendere conto quando si tratta di atrocità o crimini sistematici. Il 9 dicembre era in corso l'Assemblea degli Stari Parti all'AIA, della Corte Penale Internazionale, che è la riunione annuale, in cui tutti gli stati che hanno ratificato il Trattato di Roma, lo statuto che costituisce la Corte Penale Internazionale, era in corso, volgeva verso la fine, quello era l'ultimo giorno, e non c'è pace, aveva partecipato e partecipava a quella riunione, alleandosi con il Belgio su questo o su quell'altro tema. Quello che non mi aspettavo è che il venerdì 9 dicembre, tornato da aver portato i bambini a scuola, invece casa mia sarebbe stata invasa da un gran numero di poliziotti che mi hanno in quel momento annunciato che avevano mandato le prequisizioni e che cercavano soldi, e dove sono i soldi? Ovviamente io a casa non avevo una lira, nemmeno 20 euro da mostrare, e che alla fine della prequisizione, avendo sequestrato telefono, i tablet dei bambini, il laptop che appartiene, tra l'altro non c'è pace senza giustizia, che stavo usando, mi hanno portato al commissariato per un interrogatorio. Non sono stati giorni facili, per me non sono stati giorni facili per l'associazione evidentemente, sono stati giorni molto difficili per la mia famiglia, in particolare, io quando sono stato portato via di casa, mia moglie era all'estero, i bambini erano a scuola, quindi c'era anche la preoccupazione di chi andasse a prendere la scuola, poi per fortuna è venuta la signora che viene da noi a ore durante la prequisizione e l'hanno mandata via e ha detto no, no, prima le ha mandate via, ti vuoi occupare dei bambini? E quindi alla fine una soluzione temporanea si è trovata, però l'idea che qualcuno possa essere portato via di casa e con l'altro genitore, quando c'è, perché in caso nostro c'è, ma qualche volta non c'è, non informato, con i bambini che rimangono a scuola per me è un abuso assoluto, non tanto dei miei diritti, ma dei diritti di infanzia. Le prime ore sono state ore in cui non si capiva niente, le due settimane successive sono state quelle più difficili perché, beh, perché le condizioni di San Gil, la prigione in cui sono stato messo erano rese molto aggravate dallo sciopero delle guardie carcerarie e quindi io sono rimasto praticamente due settimane con poche eccezioni sempre nella nella cella, i pasti venivano serviti dentro dei vassoi che venivano passati, passavano dalla feritoia della porta e il mio compagno di cella non parlava nessuna lingua e un po' di inglese per le prime due settimane. Poi, insomma, non dico che mi sono abituato, ma come sempre uno si adatta e la situazione è migliorare anche perché è finito lo sciopero, anche perché mia moglie che era venuta tutti i giorni per cercare almeno di portarmi delle butande, dei calzini, cioè io sono stato arrestato e con quello che avevo indosso mi sono trovato in prigione, ma le visite e quindi anche le consegne degli abiti erano sospese per via dello sciopero, però alla fine il 24 dicembre abbiamo riuscito a venire a trovarmi, quindi quello è stato un momento diciamo dal punto di vista personale molto molto importante perché ho avuto di nuovo una connessione con il mondo esterno che nei giorni precedenti non avevo avuto. Non ho avuto, dopo quelle prime notti in cui sono stato nella cella di polizia, tra venerdì e domenica, non ho avuto occasione, nonostante che il mio avvocato chiedesse e richiedesse, occasione di parlare con gli inquirenti. Mi hanno poi detto che non ero mûr, maturo per essere interrogato pienamente perché se non hai fatto un po' di settimane in carcere evidentemente per loro non c'è un incentivo di parlare ed è questa la cosa che io trovo più scandalosa che il sistema investigativo in cui ho dovuto farmi fronte è un sistema investigativo che si appoggia quasi esclusivamente sulla confessione come prova suprema, ecco, come fossimo in Iran. Il combinato disposto del fatto che ti tengono in carcere perché non confessi e il fatto che dopo un terzo della pena incomincia a poter uscire, il weekend e poi con i resti domiciliari, con la soviglianza elettronica eccetera eccetera, vuol dire che alla fine conviene confessare. Cioè dopo che ti fai due anni di carcere preventivo, se la pena che avresti avuto è inferiore a sei anni, sei scemo tu che non confessi. E questa idea che non esiste un limite dettato dalla legge alla prevenzione preventiva durante le indagini significa che anche crea una condizione per il quale le indagini avvengono così, con la detenzione preventiva. Vabbè nel mio caso avevo poco da confessare perché non avevo fatto nulla di illegale, però evidentemente anche leggendo poi dai giornali quello che è successo agli altri indagati, per altri ha funzionato. Poi quanto siano affidabili le confessioni fatte in condizioni che sono oggettivamente, non a livello di tortura certamente, però oggettivamente, inumane e degradanti, secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani, come quelle del carcere di San Gil, senza una data ultima, data ultima a zero, no? Come si dice. Fine pena non si sa, perché ancora non c'hai la pena. E ecco, quanto siano poi affidabili queste confessioni è una cosa di cui io credo che la magistratura belga deve fare una riflessione. L'idea che l'investigazione si fa attraverso la detenzione preventiva, secondo me, rende potenzialmente molto inaffidabile il risultato delle indagini, quindi rende le inchieste non professionali. Sicuramente in queste indagini c'è stata prima di tutto una mancanza di professionalità da parte degli inquirenti e prima di tutto del giudice istruttore. Se esistevano elementi per ritenere che ci fosse un relato di corruzione, avendo cominciato l'indagine non so quanti mesi prima, bastava seguire e aspettare che fossero a bustare la pagata. Invece la fretta, la fretta era legata esclusivamente al voler uscire sui giornali prima della partita degli pannoli, della finale della partita dei palloni della Coppa del Mondo, grazie. Sova dire campionato del mondo, ma non è giusto la Coppa del Mondo. Quindi anche il hashtag è Qatargate, da quello che si legge nei giornali, io non posso parlare di quello che vedo in un dossier, ma di quello che si legge nei giornali, e qui si tratta di soldi marocchini. Quindi Qatargate serve e serviva al giudice istruttore, secondo me, per legare l'indagine con un avvenimento mediatico mondiale, cosa che non è degna di un magistrato, di fare un lavoro fatto male, perché agli occhi di tutti è il fatto che l'indagine adesso è sotto inchiesta. Perché per uscire in tempo, per fare in tempo di farsi pubblicità con una partita di pallone? Io ritengo che questa sia la cosa più vergognosa. Con l'idea che l'indagine non richiede che tu sia accusato di cose specifiche, perché è un'indagine, quindi usciranno dall'indagine le cose specifiche, hanno completa l'attitudine di fare quello che gli pare. Va a finire che l'indagine sia la punizione. E in effetti, per me, che sono stato liberato senza condizioni, il teferbaio, si può dire che la punizione è finita, no? Ma intanto, per non c'è pace la punizione continua. E non c'è pace non è nemmeno indagata. Né in Italia né in Belgio. Certo. Quindi, se l'obiettivo è quello di danneggiare il lavoro di organizzazione dei diritti umani, l'obiettivo non ha bisogno di una condanna. L'obiettivo è già raggiunto. Il lavoro è già danneggiato. Poi, piano piano, si ricostruisce. Dicevamo prima, la Commissione europea, anzi, il Transparency Registry, che è Commissione, Parlamento e Consiglio, insieme, ha finalmente finito la propria indagine e ha trovato che non c'è pace senza giustizia, non ha commesso nessuna infrazione del codice deontologico o del codice di condotta. Io non ho possibilità di dimostrarmi innocente perché non sono stato ancora accusato di nulla. Quindi non è arrivato il momento in cui, al termine dell'indagine, in Belgio si va davanti alla Camera di Consiglio e si dice che questa persona è rinviata a giudizio per questi elementi e per queste altre persone non c'è luogo a procedere. E la cosa che mi preoccupa è che questo momento non arriverà mai. Tanto più che adesso l'indagine stessa è sotto inchiesta da parte della magistratura. Forse questo basta. Forse dal punto di vista, diciamo, del sentirsi riabilitato il fatto che il giudice istruttore è stato obbligato a ritirarsi. Il fatto è che adesso il procuratore capo di questa vicenda è stato rimosso dal Consiglio di Superiore della Magistratura e è stato messo adesso a fare l'ispettore del lavoro della provincia di Biegi. Quindi non credo che da procuratore federale, a capo di questa inchiesta, la più importante del mondo, a ispettore del lavoro della provincia di Biegi, sia una promozione. Forse è quello che voleva fare, non lo so dire. Però tutti questi elementi contribuiscono un po' alla riabilitazione. Io spero che tutti questi segnali possano, diciamo, concretizzarsi poi in una vera ripresa delle attività, ma devo dire che è molto difficile. Prima di tutto hanno sequestrato 740 mila euro dal conto corrente di non c'è pace senza il suo giustizio a Roma. Non solo. Adesso che il Tribunale d'Appello è in fase di revisione dell'indagine, sarà anche difficile che tutte le misure cautelative cosiddette prese possono essere considerate prima della fine dell'indagine o sull'indagine. Quelli tra l'altro non erano nemmeno soldi dell'associazione. C'erano soldi della Svizzera per il lavoro in Afghanistan, c'erano soldi della Norvegia per il lavoro in Afghanistan, c'erano soldi della Commissione Europea per il lavoro in Ghibbia, e c'erano soldi dell'Open Society Institute, sempre per il lavoro in Afghanistan. C'erano soldi di donors che noi abbiamo avuto, con cui abbiamo avuto rapporti di fiducia per anni, a cui né li possiamo ridare, né possiamo fare le cose per le quali erano stati dati. Quindi è molto difficile per l'organizzazione a questo punto rivolgersi agli stessi donors e dire, beh, ce ne date altri perché quelli ce l'hanno tolti. Per tutti, a dicembre, il primo passo è stato, beh, intanto sospendiamo, poi quando sarà finita questa storia riprenderemo il lavoro insieme. Adesso sappiamo che la storia non finirà mai, o comunque non in tempi sufficienti perché l'organizzazione possa riprendere a sopravvivere. Quindi il nostro impegno di questi giorni è di trovare modo di ripartire con nuovi soldi, perché alla fine non potendo più contare che quelli sequestrati possano tornare. Lo strapotere corrompe profondamente le persone. Quindi se c'è una vera corruzione nel sistema, è il sistema per la quale ci si affida, si affida la legalità all'arbitro dei singoli. E non è che è colpa del giudice Claes, è colpa del sistema. Il problema sistemico, poi, è che non c'è un vero modo, fino alla fine fantomatica dell'indagine, di dire, oltre che poterlo declamare, che io non solo sono alla presunzione di innocenza, ma sono anche pienamente innocente. Non c'è un certificato, come c'è stato invece per non c'è pace per l'indagine europea, non esiste un certificato di innocenza. Sì, c'è la fedina penale che ho ottenuto dal comune di Excel, che dice, ma rimane comunque la macchia, e rimane anche per come la procura, o i servizi segreti, o il giudice istruttore, o comunque chi aveva accesso da venerdì stesso, perché i giornali hanno cominciato a far uscire notizie venerdì, quando io ancora non sapevo di essere arrestato. Perché io, per quanto mi riguarda, mi guardava in quel momento andavo a rispondere domande al commissario di polizia, quindi non sapevo di essere privato della mia libertà, nel momento in cui sono entrato in casa, perché mi hanno dichiarato, da questo momento lei è privato della libertà, ho detto, va bene. Ma su che mi hanno fatto vedere il mandato? Dicevano, non lo può ottenere, può solo leggerlo, con le mani dietro, ma non sapevo di cosa si trattava, mentre i giornali venerdì stesso erano pieni di dettagli, e quindi c'è stata una scelta a tavolino di creare un'espressione polite, gentile per dire lo shitstorm, ci sarà una situazione mediatica di gogna che poi va a giustificare la detenzione preventiva, nella speranza che poi esce qualcosa dalle confessioni che va a giustificare la gogna mediatica. Quindi l'obiettivo della gogna, non lo so qual è l'obiettivo più recondito della gogna, forse l'obiettivo è la punizione, come anche forse l'obiettivo dei sequestri preventivi, della detenzione preventiva, è la punizione. Certo, ci sono i tweet della polizia con le valigie piene di soldi a casa di persone. Da chi le avevano ricevute, da chi non le hanno ricevute? Cosa ci hanno fatto? Intanto per la corruzione c'è bisogno di un corrottore e di un corrotto. C'è chi dice che il crimine sia un crimine di evasione fiscale. A me non mi sembra una cosa tanto improbabile. Io non lo so, io credo che ci sono molti aspetti di questa vicenda che non sono chiari e non so se nemmeno se saranno resi più chiari sull'indagine, cioè dalla giudice review da parte della Camera messa in accusazione dalla Camera d'Appello. Quello che io trovo molto inquietante, come ho appena menzionato, è il ruolo dei servizi segreti. Il fatto che i servizi segreti nel loro rapporto annuale dichiarino apertamente, nelle interviste con i media dichiarino apertamente che non solo hanno fornito elementi agli inquirenti, cosa normale, se qualcuno dei servizi segreti ha notizie di crimine, deve fornire. Ma che hanno continuato a rimanere coinvolti nell'indagine, io lo trovo una cosa aberrante, una democrazia. Aberrante perché i servizi segreti non hanno obblighi come invece la polizia giudiziaria, come invece dovrebbe avere il giudice istruttore, che è di valutare le prove a favore e contro. I servizi segreti hanno altri obblighi e altri interessi, evidentemente. Il fatto che la Procura dichiari apertamente che l'indagine è stata condotta su istigazioni di servizi segreti nazionali ed esteri è ancora più preoccupante per me. Allora, questo è una cosa che non deve accadere in una democrazia, secondo me. che i servizi segreti esteri e nazionali possano interferire con la giustizia in maniera palese, aperta, senza nemmeno nascondersi e con l'effetto, se non l'obiettivo, di andare a danneggiare un'organizzazione che si occupa di diritti umani e che ha condannato le violazioni e di diritti umani di molti paesi esteri, compresi forse quelli che sono origine dell'interesse dei servizi segreti. Parlo soprattutto del fatto che insomma siamo una coincidenza infelice e che nel frattempo è uscito fuori che agenzie di servizi segreti privati hanno avuto contratti specifici taglia, una taglia sulla mia testa parlo di Alp Services incorporata a Ginevra in Svizzera e di cui i vostri colleghi dell'European Investigator Consortium hanno poi reso pubblico e c'era una taglia sulla mia testa una taglia in cui la Alp Services offriva servizi di abbassamento del credit rating chiusura dei conti correnti campagna mediatica contro e tutto questo è quello che è successo a me adesso, quale sia il ruolo di Alp Services non lo so quale sia il ruolo della VSC belga da chi, attraverso chi, quali paesi esteri quali servizi esteri non lo so, non c'è scritto non si dice non si deve dire se sono cose di servizi segreti ma loro non devono interferire con l'attività giudiziaria cioè, o uno o l'altro o mantieni il segreto e allora stai fuori dall'attività giudiziaria oppure, se va a finire che qualcuno finisce in galera che c'è i conti correnti congelati che l'organizzazione tolgono, tolgono, diciamo congelano la parte dei fondi dell'organizzazione l'organizzazione che si occupa di diritti umani e di contrastare gli abusi dei servizi segreti beh, allora c'è qualcosa che non va e secondo me questa è una domanda che i belgici si devono porre da che parte stanno? noi siamo intenzionati a ripartire io sono intenzionato a rimanere come segretario generale abbiamo un nuovo board da giugno scorso abbiamo un nuovo consiglio direttivo abbiamo un nuovo presidente abbiamo una membership rinvigorita e decisa nel arrivare al trentennio dell'organizzazione che sarà l'anno prossimo forti come prima è una scommessa evidentemente ma noi siamo nati da una tradizione politica in cui l'impossibile è comunque l'obiettivo e se non è impossibile non vale la pena di farlo e quindi io ci credo molto certo i colpi diciamo accusati hanno sempre delle conseguenze ma si impara anche anche da tutto io devo dire adesso non voglio essere minimizzare soprattutto la sofferenza che ho avuto la mia famiglia ma io dopo le prime due settimane in prigione ho imparato tante cose ecco cose che mi sono adattato abbastanza abbastanza bene ho imparato un mondo che non conoscevo conoscevo da diciamo da da militante dei diritti umani le problematiche delle prigioni ma è un'altra cosa più che la deve dentro abbiamo anche imparato chi è chi sono i nostri amici su chi si può contare e quindi diciamo le disgrazie portano varie varie conseguenze negative ma anche positive credo che sapere su chi si può contare sia una delle cose più importanti che abbiamo imparato grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti